Hi, I am Marco and today I want to tell you about... Scusate, non riesco proprio a capire perché mi viene da parlare in inglese. Salve a tutti, sono Marco e sono il responsabile di Ammappa l'Italia. Oggi voglio parlarvi di un'iniziativa che faremo il 5 luglio 2014. Partiremo da Gallese e andremo alla scoperta della vecchia ferrovia abbandonata, passando sopra due splendidi ponti che affacciano su delle forre meravigliose, un ponte di ferro e un ponte di pietra. Noi oggi nello specifico siamo venuti qui a fare un sopralluogo a Gallese per farvi vedere quella che sarà la bellezza del percorso che andremo a fare. Infatti vedete dietro di me l'inconfondibile sagoma di Gallese che mi sono appena lasciata alle spalle e qui adesso siamo nello specifico sopra il secondo ponte di pietra. Sì, lo so, voi state dicendo questo Marco ci sta prendendo in giro e non ci dice tutta la verità. È vero, non sono precisamente a Gallese, ma nella ricostruzione grafica di Gallese come potrebbe essere se soltanto la ferrovia abbandonata venisse riaperta e delle potenzialità turistiche che questa avrebbe. Quindi mi raccomando, alle ore 16 a Gallese, alla Statua della Liberazione, tutti quanti insieme andiamo alla scoperta della ferrovia abbandonata. E ricordatevi, a Gallese tutto il mondo è paese!